Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Voglio sentire cosa ne pensa Alessandro Cattaneo che non ha mai fatto mistero dell'antipatia sua e del suo partito nei riguardi del Movimento 5 Stelle ma adesso si trova a governare insieme. Lei auspica, come peraltro fa questa mattina, Licia Ronzulli che Conte rompa gli indugi e esca dal governo per il bene anche del sistema, come dice di fatto Velardi. Sì, noi crediamo che sia tempo di fare chiarezza. Io ho fatto il relatore del provvedimento di L.I.U.T., quello su cui stanno temporeggiando, stanno facendo tutto questo teatrino Conte in primis e quindi ho visto la fatica che si è fatta per mettere insieme idee che sono molto diverse. Quando siamo arrivati all'articolo sul termovalorizzatore di Roma, noi avevamo un emendamento che addirittura stressava ancora di più il concetto di realizzazione di nuovi impianti. Loro hanno messo in votazione, perché si è votato in commissione sul termovalorizzatore e i loro emendamenti che volevano cancellare la costruzione di questo nuovo impianto sono stati bocciati dalla commissione. Uno dice, beh, è finita qua. No, sono andati avanti con questa pantomima che prosegue. Poi abbiamo visto, per esempio, se ne parla, ma non abbastanza, dell'emendamento che Forza Italia ha fatto, il cosiddetto spazzadivani, per dare qualche modifica al reddito di cittadinanza, cioè che vale nel conto delle offerte di lavoro anche quella che il percettore di reddito di cittadinanza riceve direttamente da un imprenditore. Anche questo, secondo me, è un passo in avanti e si sono molto irritati per questo. Però, insomma, io credo che sia venuto il tempo della chiarezza. E penultimato non fanno bene a nessuno. Concordo con Velardi, quando diceva prima il dilettantismo di Conte. Ma il dilettantismo è stato voluto, cioè i Cinque Stelle hanno teorizzato che era meglio avere dei dilettanti in politica piuttosto che avere, diciamo, delle persone esperte, delle persone di esperienza all'interno del mondo della politica. Quindi è stato voluto il dilettantismo, però i risultati probabilmente gli italiani li avevano sottovalutati. Il dilettantismo porta solo danni. Allora, Grazie.